Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi sono qui con ben tre pacchetti Adrenalin allora, incominciamo subito e speriamo di trovare belle carte come è sempre primo pacchetto, allora vediamo abbiamo la lettera A, mancante buono, buono poi qua c'è una carta girata che potete vedere Zerinsky, idolo poi allora abbiamo Riberi della Salernitana Defrel del Sassuolo Ebozeil nuova firma Silvestri e come finire abbiamo Frattesi Fantastella prossimo pacchetto allora andiamo allora lettra D di nuovo mancante per completare la frase la parola ok abbiamo Anguissa del Napoli poi abbiamo Rebic poi abbiamo Singo Diju Diju vabbè poi abbiamo Hernanda Stella e Silvestri e Silvestri idolo ultimo e poi ultimo pacchetto allora speriamo in una bella carta che non l'ho già trovata è a Fantastella Frattesi Teo stelle buoni qua codice senza lettera poi ok ok aspetta raga ma gratta un po' però non penso sia top player va bene vabbè noi continuiamo ad aprire uh Victor Ozyman poi Barangi Barami poi abbiamo Ismael Ismael poi abbiamo Bianchetti poi abbiamo Damsguard della Taranta Diamante e infine Vojvoda Difensore Intoccabile allora andiamo a mettere subito le carte che abbiamo trovato che buone e andiamo a vedere se sono mancanti o doppione penso tutte mancanti perché molti nomi non li riconosco qua il nostro bellissimo album insieme alle nostre bellissime carte allora subito un bellissimo Danceguard 409 Doria Diamante andiamo a metterlo insieme agli altri diamanti ed è proprio qua poi abbiamo Bianchetti del Cremona 40 molto indietro come vedete mi mancano molte carte perché non è inserita tantissimo la collezione allora ecco qua e l'abbiamo proprio questa prima pagina abbiamo e qua vicino al secondo portiere del Cremona poi abbiamo i Smagli non riesco a pronunciarlo bene perché sono dei nomi difficili 64 quindi a fianco ad Oz poi abbiamo Frattesi Fantastella numero 440 bel giocatore Frattesi allora 440 è quella prima scusate per la chiamata poi abbiamo Bajrami 66 66 76 76 abbiamo completato la prima striscia dell'empole ora vi faccio vedere come vedete qua come vedete qua poi ora si è entrato perché mi sono arrivando troppe chiamate non so da chi poi abbiamo Victor Ozyman che ha 233 prima di Cravaschelia poi abbiamo The Silvestre Ridolo 362 Terzino penso destro o sinistro non mi ricordo del Bologna poi abbiamo Hernandez Stella Terzino sinistro giocatore gran giocatore grande ma grande giocatore che è 454 quindi qua poi abbiamo il difensore del Torino Digi poi 328 e poi abbiamo un gran portiere per me cioè bravo non proprio follia però molto tecnico che ora vi faccio vedere allora secondo me da un bel portiere Silvestri dell'Udinese che è la carta 344 poi abbiamo il Bosele dell'Udinese sempre 351 qua Udinese sta trovando tante carte poi abbiamo De Frel che va proprio 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 vicino a Bellardi poi abbiamo Frank Ribéry capitano della Salernitana 267 troppo indietro sono andato e 267 quindi qua poi abbiamo Gielinski Idola 377 Gielinski Idola 300 eccolo qua là è un giocatore anche lui centrocampista del Napoli poi abbiamo Vojvoda difensore del Torino intoccabile che è 431 qua poi abbiamo Singo del Torino andiamo a vedere andiamo a vedere 334 quindi doppione raga come si vede è proprio qua Singo Singo va bene poi andiamo a mettere Rebic attaccante del Milan numero 196 dopo Giroud poi infine abbiamo Anguissa centrocampista del Napoli anche nel Napoli non è che ne ho pochissimi il video finisce qui se vi è piaciuto il video mettete like e mi piace e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti